Un Natale felice. Il mattino dopo arrivò la neve. I fiocchi scendevano roteando e dondolando nel vento. Laura non poteva andare fuori a giocare. Spot, Pete e Bright rimasero tutto il giorno nella stalla mangiando la paglia e il fieno. In casa papà aggiustava i suoi stivali mentre mamma gli leggeva ancora una volta il romanzo Milbank. Mary cuciva e Laura giocava con Charlotte. Poteva prestare Charlotte a Carrie ma non le bamboline di carta. Carrie era troppo piccola e avrebbe potuto strapparle. Quel pomeriggio mentre Carrie dormiva mamma chiamò Mary e Laura con un cenno. Dalla sua espressione si capiva che aveva un segreto. Avvicinarono le loro teste alla sua e lei glielo svelò. Potevano fare una collana di bottoni da regalare a Carrie per Natale. Si misero sul loro letto dando le spalle a Carrie e divaricando le gambe. Mamma diede loro la scatola dei bottoni. Era quasi piena. Mamma aveva tenuto da parte i bottoni da quando era più piccola di Laura e aveva bottoni che sua madre aveva conservato a sua volta da quando era bambina. C'erano bottoni blu e rossi argentati e dorati. Bottoni bombati con castelli, ponti e alberi a rilievo. Bottoni lucicanti di giavazzo nero e di porcellana dipinta. Bottoni a strisce. Bottoni che sembravano more succose. E c'era anche un piccolo bottone a forma di testa di cane. Nel vederlo Laura strillò. Shhh la dì mamma. Ma Carrie non si svegliò. Mamma diede loro tutti quei bottoni perché facessero una collana per Carrie. Dopotutto a Laura non dispiaceva stare in casa. Quando guardava fuori vedeva il vento che spostava cumuli di neve lungo la terra spoglie e ghiacciata. Anche il ruscello era ghiacciato e le chiome dei salici si agitavano rumorosamente. In casa lei e Mary avevano il loro segreto. Giocavano docilmente con Carrie e le davano tutto ciò che voleva. La coccolavano e cantavano per farla addormentare ogni volta che potevano. Poi tornavano a lavorare alla loro collana. Mary teneva un'estremità e Laura l'altra. Sceglievano i bottoni e li infilavano. Osservavano il filo. Toglievano alcuni bottoni e ne mettevano altri. A volte toglievano tutti i bottoni e ricominciavano. Avrebbero fatto la collana di bottoni più bella del mondo. Un giorno mamma disse loro che era la vigilia di Natale. Dovevano finire la collana quel giorno stesso ma non riuscivano a far dormire Carrie che correva e strillava. Si arrampicava sulle panche, saltava giù, saltellava e cantava e non si stancava mai. Mary le disse di stare seduta e buona come una signorina ma lei non voleva. Laura lasciò che prendesse Charlotte e lei la lanciava in aria scagliandola persino contro il muro. Alla fine mamma la culò e le cantò una ninanana. Laura e Mary rimasero completamente immobili. Mamma cantò sempre più piano e Carrie sbatté le palpebre finché gli occhi non li si chiusero. Quando mamma smise di cantare Carrie li spalancò nuovamente urlando ancora ma ancora. Infine però si addormentò. Allora in fretta Laura e Mary terminarono la collana di bottoni. Mamma ne unì le estremità. Era fatta. Ora non si poteva più cambiare un singolo bottone. Era una bellissima collana. Quella sera dopo cena mentre Carrie dormiva profondamente mamma appese le sue calzine pulite al bordo del tavolo. Laura e Mary in camicia da notte infilarono la collana in una calza ed ecco tutto. Mary e Laura stavano per andare a dormire quando papà chiese loro non appendete le vostre calze? Ma disse Laura pensavo che babbo Natale ci avrebbe portato dei cavalli. Forse lo farà disse papà ma le bambine appendono sempre le loro calze la vigilia di Natale non è vero? Laura non sapeva cosa pensare e nemmeno Mary. Mamma prese due calze pulite dalla scatola dei vestiti e papà la aiutò ad appenderle vicino a quelle di Carrie. Laura e Mary dissero le loro preghiere e andarono a letto incuriosite. Al mattino Laura sentì il fuoco scoppiettare. Socchiuse un occhio e vide la luce della lampada e un rigonfiamento nella sua calza di Natale. Urlò e saltò giù dal letto. Anche Mary arrivò di corsa. Carrie si svegliò nella calza di Laura e in quella di Mary c'erano dei pacchettini di carta uguali e all'interno c'erano delle caramelle. Entrambe ne avevano sei. Non avevano mai visto caramelle così belle. Erano troppo belle per mangiarle. Alcune erano ondulate come fiocchetti. Alcune erano bastoncini di zucchero ornati alle estremità di fiori colorati. Altre erano perfettamente rotonde e a strisce. In una delle calzine di Carrie c'erano quattro belle caramelle. Nell'altra c'era la collana di bottoni. Gli occhi e la bocca di Carrie si spalancarono quando la vide. Poi urlò. La ferrò e urlò ancora. Seduta in braccio a papà guardava le sue caramelle e la sua collana di bottoni agitandosi e ridendo di gioia. Era ora per papà di occuparsi degli animali. Disse pensate che ci sia qualcosa per noi nella stalla? E mamma disse vestitevi più in fretta che potete bambine così potrete andare a vedere nella stalla con papà. era inverno quindi dovettero indossare calze e scarpe. Mamma le aiutò ad allacciare le scarpe, legò loro lo scialle sotto il mento e corsero fuori nel freddo. Tutto era grigio a eccezione di una lunga striscia nel cielo a est. La sua luce rossa brillava sulle macchie di neve grigio bianca. La neve impigliata nell'erba secca sui muri e sul tetto della stalla era rossa. Papà rimase a guardare sulla porta della stalla. Rise quando vide arrivare Laura e Mary e uscì per lasciarle entrare. Lì al posto di Pete e Bright c'erano due cavalli. Erano più grandi di Pete e Patty e di un colore marrone rossiccio, lucido come la seta. Avevano la criniere e la coda nere e gli occhi limpidi e mansueti. Avvicinarono il naso vellutato a Laura e annusarono dolcemente la sua mano riscaldandola con il loro fiato. Ecco palpita cuore, disse papà. Mary, vi piace questo regalo di Natale? Tanto pa, disse Mary. Ma Laura non riuscì a dire altro che... Oh pa! Gli occhi di papà brillavano. Chiese chi vuole cavalcare i cavalli di Natale per portarli a bere? Laura non stava nella pelle mentre lui aiutava Mary a salire e le mostrava come tenersi alla criniera dicendole di non avere paura. Poi le sue mani forti sollevarono Laura. Laura sedette sulla grande schiena docile del cavallo e sentì la sua vitalità che la sosteneva. Fuori la luce del sole si rifletteva sulla neve e sulla brina e tutto scintillava. Papà avanzava per primo guidando i cavalli, portava l'ascia per rompere il ghiaccio del torrente in modo che gli animali potessero bere. I cavalli sollevavano la testa, respiravano a fondo e poi con energia buttavano fuori l'aria fredda dal naso. Le loro orecchie vellutate si muovevano avanti e indietro. Laura si tenne alla criniera del suo cavallo sbattendo tra loro le scarpe, ridendo. Papà, i cavalli, Mary e Laura erano felici in quel lieto, freddo mattino di Natale. Piena primaverile. Nel cuore della notte Laura sedette dritta sul letto. Non aveva mai sentito un rumore come quello che scrosciava dietro la porta. Pa, pa, che cos'è? urlò. Sembra il roscello, disse lui saltando giù dal letto. Aprì la porta e lo scroscio entrò nel buio pesto della casa. Laura era spaventata. Sentì papà urlare. Santo cielo, sta piovendo a dirotto. mamma disse qualcosa che Laura non riuscì a capire. Non si vede niente, urlò papà. È buio pesto. Non preoccuparti, il roscello non può salire così in alto. Uscirà dalla riva bassa, dall'altro lato. Chiuse la porta e il rumore non fu più così forte. Va a dormire, Laura, disse. Ma Laura rimase sveglia ad ascoltare quel fragore che tuonava da sotto la porta. Poi aprì gli occhi. La finestra era grigia, papà non c'era e mamma stava preparando la colazione, ma il roscello continuava a scrosciare. In un attimo Laura scese dal letto e aprì la porta. Ah, una pioggia gelida le cadde addosso, togliendole il fiato. Saltò fuori sotto l'acqua bagnandosi completamente. Ai suoi piedi il roscello correva e scrosciava. Il sentiero finiva lì. L'acqua furiosa saliva e rotolava sugli scalini che di solito scendevano alla passerella. I salici erano sommersi e le chiome degli alberi creavano vortici di schiuma gialla. Il rumore rimbombava nelle orecchie di Laura. Non poteva udire la pioggia. La sentiva battere contro la sua camicia da notte fradicia e sbattere sulla sua testa, come se non avesse i capelli. Ma sentiva solo il selvaggio fragore del roscello. L'acqua, rapida e possente, era spaventosa e insieme affascinante. Gorgogliava formando una schiuma tra le chiome degli alberi e scivolava via con un turbine nella prateria. Balzava alte, bianca, controcorrente, laddove il roscello svoltava. Cambiava in continuazione, pur era sempre uguale, forte, terribile. All'improvviso mamma spinse Laura dentro, chiedendole, non hai sentito che ti chiamavo? No, ma, rispose Laura. Beh, no, disse mamma, suppongo di no. L'acqua colava giù, creando una pozzanghera ai piedi di Laura. Mamma le tosse la camicia da notte inzuppata e l'asciugò bene con un asciugamano. Ora, vestiti in fretta, disse mamma, o prenderai un brutto raffreddore. Ma Laura aveva caldo, non si era mai sentita così viva. Mary disse, mi sorprendi, Laura, io non uscirai mai sotto la pioggia inzuppandomi in quel modo. Oh, Mary, avresti dovuto vedere il roscello, gridò Laura e chiese, posso uscire a vederlo di nuovo dopo colazione, ma... No, non puoi, rispose mamma, non finché continua a piovere. Ma, mentre facevano colazione, la pioggia cessò. Il sole splendeva e papà disse che Laura e Mary potevano andare con lui a vedere il roscello. L'aria era fresca, pulita e umida, aveva il profumo della primavera. Il cielo era blu, solcato da grandi nuvole bianche. La neve si era sciolta e la terra era inzuppata. Dalla sponda alta, Laura poteva ancora sentire lo scroscio del roscello. Questo tempo mi sconvolge, disse papà, non ho mai visto nulla del genere. È ancora il tempo delle cavallette, gli chiese Laura, ma papà non seppe rispondere. Camminarono lungo la riva alta, guardando quello strano spettacolo. Il roscello ruggente e spumeggiante aveva cambiato tutto. I boschetti di susini non erano che mucchi di legno nell'acqua schiumosa. Il Monticello era un'isola circolare tutto intorno. L'acqua scorreva dolcemente, usciva e rientrava in quel vasto fiume impetuoso. Gli alti salici erano diventati salici bassi in mezzo a un lago. Oltre gli alberi, la terra che papà aveva varato era nera e bagnata. Papà la guardò e disse non manca molto, presto potrò seminare il grano. La passerella. Il giorno seguente Laura era sicura che mamma non l'avrebbe lasciata andare a giocare a ruscello, che continuava a scrosciare ma in modo più tranquillo. Laura riusciva a sentirne il richiamo, così sgattaiolo fuori in silenzio senza dire nulla a mamma. Ora l'acqua non era più così alta, era scesa dai gradini e Laura poteva vederla sbattere contro la passerella. Una parte dell'asse era fuori dall'acqua. Per tutto l'inverno il ruscello era stato ricoperto di ghiaccio, era rimasto fermo, immobile, senza produrre il minimo suono. Ora correva spedito e faceva un rumore allegro. Dove colpiva il bordo della tavola formava una schiuma bianca fatta di bolle che sembravano ridacchiare. Laura si tolse le scarpe e le calze e le appoggiò al sicuro sull'ultimo gradino, poi camminò sulla tavola e rimase in piedi a guardare l'acqua gorgheggiante. Le gocce guizzavano sui suoi piedi e piccole onde li contornavano. Infilò un piede nell'acqua spumeggiante, poi sedete sulla tavola lasciando cadere entrambe le gambe nell'acqua. Il torrente le spingeva forte, lei lo scalciava, era divertente. Ora era quasi tutta bagnata, ma aveva voglia di immergersi completamente. Si sdraiò a pancia in giù e infilò le braccia ai lati della tavola immergendole nella forte corrente, ma non le bastava, voleva stare proprio dentro il ruscello, allegro e scrosciante. Unì le due mani sotto la tavola e rotolò giù. In quel preciso momento seppe che il ruscello non stava scherzando, era forte e terribile, la afferrò e la spinse sotto la tavola. Rimasero fuori solo la testa e un braccio aggrappato disperatamente alla larga tavola. L'acqua la tirava e la spingeva cercando di trascinarle la testa sotto la tavola. Il mente era aggrappato al bordo e il braccio si teneva stretto mentre l'acqua tirava il resto del suo corpo. Il ruscello non rideva più adesso. Nessuno sapeva dove fosse Laura. Se avesse urlato per chiedere aiuto non l'avrebbero sentita. L'acqua scrosciava rumorosamente e la strattonava sempre più forte. Laura scalciava, ma il ruscello era più forte delle sue gambe. Aveva entrambe le braccia sulla tavola e tirava, ma la corrente era più forte. La trascinava con la testa in acqua facendola sbattere così forte che le sembrava sul punto di aprirsi in due. L'acqua era fredda, il freddo le entrava nelle ossa. Il ruscello non era vivo come i lupi o la mandria, ma era forte, terribile, inarrestabile. L'avrebbe tirata giù e risucchiata nel suo turbine, trascinandola e scuotendola come un ramo di salice. Aveva le gambe stanche e le braccia quasi non sentivano più la tavola. Devo uscire, devo, pensò. Sentiva nella testa lo scroscio del torrente, spinse forte con entrambi i piedi, tirò energicamente con le braccia e fu di nuovo sdraiata sulla passerella. La tavola era solida, sotto la pancia e sotto il viso. Sdraiata sulla passerella, Laura respirava ed era felice di trovarsi su qualcosa di solido. Quando si mosse, ebbe un capogiro. Avanzò Carponi e lasciò la passerella, prese le scarpe e le calze e salì lentamente su per gli scalini fangosi. Si fermò davanti alla porta di casa, non sapeva cosa dire a mamma. Dopo un po' entrò, ancora gocciolante, rimase in piedi vicino alla porta. Mamma stava cucendo. «Dove sei stata, Laura?» chiese mamma alzando la testa, poi accorse dicendo «Santo cielo, voltati presto!» cominciò a sbottonarle il vestito dietro la schiena. «Cosa è successo? Sei caduta nel ruscello?» «No, signora», disse Laura. «Ci sono entrata apposta!» Mamma ascoltava mentre svestiva Laura e la strofinava con un asciugamano dalla testa ai piedi. Non disse una parola, nemmeno quando Laura ebbe raccontato tutto. Laura batteva i denti. Mamma le mise addosso una coperta e la fece sedere accanto al fornello. Alla fine mamma disse «Beh, Laura, ti sei comportata male e lo sapevi fin dall'inizio, ma non posso punirti. Non posso nemmeno sgridarti, hai rischiato di annegare». Laura non disse nulla. «Non ti avvicinerai più al ruscello senza che papà o io ti abbiamo dato il permesso e di certo non prima che l'acqua sia scesa», disse mamma. «Va bene», rispose Laura. Il ruscello sarebbe sceso, sarebbe tornato a essere un posto tranquillo e piacevole in cui giocare, ma nessuno poteva forzarlo, nessuno poteva obbligarlo a fare qualcosa. Ora Laura sapeva che c'erano cose più forti di qualunque persona, ma il ruscello non l'aveva avuta vinta, non l'aveva fatta urlare e non avrebbe potuto farla piangere. La casa meravigliosa. Il ruscello era sceso e all'improvviso le giornate erano diventate più calde e quasi ogni giorno papà andava a lavorare nel campo di grano con Sam e David, i cavalli di Natale. «Ascolta», disse mamma, «stai lavorando quella terra fino all'osso, finirai con l'ammalarti». Ma papà rispose che la terra era secca perché non c'era stata abbastanza neve. Doveva ararla in profondità e lavorarla bene con l'erpice e poi seminare in fretta il grano. Ogni giorno cominciava a lavorare prima che il sole sorgesse e continuava finché non calava il buio e al buio Laura aspettava di sentire Sam e David che guadavano il ruscello. Poi correva in casa a prendere la lanterna e andava in fretta verso la stalla tenendola in mano perché papà vedesse ciò che doveva fare. Era davvero troppo stanco per ridere o per parlare. Cenava e andava a letto. Papà seminò il grano e l'avena, poi mamma, Mary e Laura lo aiutarono a piantare le patate in giardino e a spargere i semi nell'orto e lasciarono credere a Carrie che anche lei stava dando una mano. Il mondo intero era ricoperto di erba verde ora. Le foglie giallo-verdi dei salici si stavano aprendo. Le conche in mezzo alla prateria erano piene di violette e ranuncoli. Le foglie di acetosa simili a trifogli e i fiori di lavanda si potevano mangiare ed erano amari. Solo il campo di grano era spoglio e scuro. Una sera papà mostrò a Laura il campo marrone puntinato di verde. Il grano era spuntato. I germogli erano talmente minuscoli che li si vedeva malapena, ma erano così tanti che formavano una specie di nebbiolina verde e tutti erano felici quella sera perché il grano era in buone condizioni. Il giorno seguente papà andò in città. Sam e David potevano andare e tornare in un pomeriggio. In casa non fecero in tempo a sentire la mancanza di papà e lo stavano ancora aspettando che era già rientrato. Laura sentì il rumore del carro e fu la prima a correre su per il sentiero. Papà sedeva sul carro e il suo volto era radioso. C'erano delle tavole di legno impilate nel carro alle sue spalle. Disse canticchiando ecco la nostra nuova casa Caroline. Ma Charles! Mamma era senza fiato. Laura corse e si arrampicò sulla ruota del carro poi sulla pila di tavole. Non aveva mai visto tavole così lisce, dritte e belle. Erano state tagliate con una macchina. Ma il grano è appena spuntato, disse mamma. È tutto a posto, le disse papà. Mi hanno dato il legno, lo pagheremo quando avremo venduto il grano. Laura gli chiese. Avremo una casa fatta di tavole di legno? Sì, palpita cuore, disse papà. Avremo una casa fatta completamente di tavole tagliate a macchina e avrà le finestre di vetro. Era vero. Il giorno dopo il signor Nelson venne ad aiutare papà e cominciarono a scavare le fondamenta. Grazie al grano che stava crescendo avrebbero avuto una casa meravigliosa. Laura e Mary non riuscivano a stare in casa il tempo necessario a sbrigare le loro faccende, ma mamma le fece rimanere. Non voglio che facciate i lavori in modo sbrigativo, spiegò. Così lavarono tutti i piatti della colazione e li misero a posto, fecero i loro letti con cura, spazzarono il pavimento con la scopa di salice e la rimisero al suo posto, quindi poterono andare. Corsero giù per le scale sulla passerella, sotto i salici, poi su nella prateria. Attraversarono l'erba alta e salirono in cima a una collinetta verde dove papà e signor Nelson stavano costruendo la nuova casa. Era divertente guardarli mentre costruivano la struttura della casa. Le travi stavano su, slanciate e nuove di zecca e tra l'una e l'altra il cielo era di un blu intensissimo. Il rumore dei martelli metteva allegria, le pialle tagliavano riccioli di legno profumato. Laura e Mary si appesero dei truccioli alle orecchie, come orecchini, e intorno al collo a modi collane. Laura se li infilò nei capelli, facendoli scendere giù come lunghi riccioli dorati, proprio il colore che aveva sempre desiderato per i suoi capelli. Sopra la struttura della casa papà e signor Nelson lavoravano con sega e martello. Piccoli pezzi di legno cadevano giù e Laura e Mary li raccoglievano per costruire delle casette. Non si erano mai divertite tanto. Papà e signor Nelson ricoprirono la struttura inchiodandoci sopra le tavole sovrapposte. Ricoprirono il tetto con le listarelle che avevano comprato, sottili e tutte della stessa misura. Con la sua ascia papà non avrebbe potuto farle così bene. Formavano un tetto liscio e solido senza nemmeno una crepa. Poi papà posò il pavimento fatto di tavole lisce come seta. Queste avevano delle scanalature lungo i bordi che permettevano di incastrarle perfettamente. Costruì un pavimento sopraelevato per il piano di sopra che faceva da soffitto per il piano di sotto. Al piano di sotto papà costruì una parete divisoria. Quella casa avrebbe avuto due stanze. Una era la camera da letto, l'altra era il soggiorno. In quella stanza costruì finestre con vetri lucidi e trasparenti. Una rivolta verso l'alba e l'altra vicino alla porta, verso sud. Anche sulle pareti della camera da letto mise due finestre di vetro. Laura non aveva mai visto finestre così belle. erano divise in due. In ciascuna metà c'erano sei vetri e la metà inferiore poteva essere sollevata e lasciata aperta mettendoci sotto un bastoncino. Di fronte alla porta d'ingresso, papà mise una porta di servizio e all'esterno costruì una piccola stanza. Era uno sgabuzzino appoggiato alla casa. Avrebbe tenuto alla larga i venti freddi del nord durante l'inverno ed era un posto in cui mamma poteva tenere la scopa, lo straccio e il catino. Il signor Nelson non c'era più e Laura continuava a fare domande. Papà disse che la camera da letto era per lui, mamma e Carrie mentre Mary e Laura avrebbero dormito e giocato nella soffitta. Laura desiderava così tanto vederla che papà smise di lavorare allo sgabuzzino e inchiodò delle piccole assi di legno sul muro per fare la scala della soffitta. Laura saltò velocemente sulla scala e salì finché la sua testa non spuntò dal buco nel pavimento di sopra. Il solaio era grande quanto le due stanze del piano di sotto. Il pavimento era fatto di tavole lisce. Il soffitto inclinato era il rovescio delle listarelle gialle nuove di zecca che formavano il tetto. C'erano due piccole finestre all'estremità della soffitta e anche quelle erano di vetro. All'inizio Mary aveva paura di scendere dalla scala della soffitta, poi aveva paura di calarsi giù dal buco per usare la scala. Anche Laura aveva paura ma fece finta di niente e presto entrambe si abituarono ad andare su e giù per la scala. Pensavano che a quel punto la casa fosse finita, ma papà ricoprì tutte le pareti esterne con la carta catramata, poi inchiodò altre tavole sulla carta. Erano tavole lunghe e lisce che si sovrapponevano l'una all'altra lungo i lati della casa, poi intorno alle porte e alle finestre papà fissò delle cornici piatte. Questa casa è chiusa ermeticamente, disse. Non c'era una singola fessura nel tetto, nelle pareti o nel pavimento che potesse lasciar passare la pioggia o il vento freddo. Poi papà montò le porte che aveva comprato. Erano lisce, molto più sottili di quelle che avevano fatto da sé, che aveva fatto da sé tagliando il legno con l'ascia. Al loro interno, sopra e sotto la parte centrale, c'erano dei pannelli. Papà aveva comprato anche i cardini ed era meraviglioso vederli quando si aprivano e si chiudevano. Non cigolavano come quelli di legno e non lasciavano penzolare la porta come quelli di pelle. Infine papà montò sulle porte le serrature che aveva acquistato con chiavi che si infilavano in piccoli fori sagomati, giravano e scattavano. Le porte avevano maniglie di porcellana bianca. Poi un giorno papà disse, Laura e Mary siete in grado di mantenere un segreto? Oh sì papà, risposero. Promettete di non dirlo a mamma? Chiese e loro promisero. Aprì la porta del ripostiglio. Lì c'era una stufa nera e lucida. Papà l'aveva comprata in città e l'aveva nascosta per fare una sorpresa a mamma. Nella parte superiore il forno aveva quattro fori circolari e quattro coperchi su misura. Ciascun coperchio aveva un foro e c'era una maniglia di ferro che si inseriva nei fori per poter sollevare il coperchio. Sul davanti c'era una porta lunga e bassa. Aveva delle fessure e un pezzo di ferro che scivolava avanti e indietro per aprirle e chiuderle. Era la valvola di tiraggio. Sotto sporgeva una specie di lungo vassoio che serviva a raccogliere la cenere evitando che cadesse sul pavimento. Sopra il vassoio c'era un coperchio con delle file di lettere in rilievo. Mary mise il dito sull'ultima riga e scandì. Patto. Uno, sette, sette, zero. Chiese. Cosa vuol dire pa? Si legge patto, disse papà. Laura aprì il grande sportello sul lato del forno e guardò all'interno di un grande spazio squadrato con un ripiano in mezzo. Oh pa, a cosa serve? Gli chiese. È il forno, le disse lui. Sollevò quella meravigliosa stufa, la mise nel soggiorno e montò il tubo. Un pezzo dopo l'altro il tubo saliva su attraversando il soffitto e il solaio per uscire da un buco nel tetto. Poi papà salì sul tetto e fissò un tubo di metallo più grande sulla canna fumaria. Il fondo di quest'ultimo era pieno e andava a coprire il buco nel tetto. Nemmeno una goccia di pioggia sarebbe potuta entrare nella nuova casa attraverso il tubo. Era un camino della prateria. Ecco fatto, disse papà. C'è persino un camino. Non c'era nient'altro che si potesse aggiungere in una casa. Le finestre di vetro rendevano l'interno così luminoso che quasi non sembrava di essere in una casa. Profumava di pulito e di pino per via delle nuove tavole gialle sulle pareti e sul pavimento. Il forno troneggiava maestoso nell'angolo vicino alla porta del ripostiglio. Un tocco sulla maniglia di porcellana faceva ruotare la porta sui cardini. La linguetta di ferro scattava e manteneva la porta chiusa. Ci entreremo domattina, disse papà. Oggi sarà l'ultima volta che dormiamo nella casa sottoterra. Laura e Mary gli diedero la mano e scesero giù per la collinetta. Il campo di grano di un verde brillante e vellutato si increspava lungo una curva nella prateria. I bordi erano dritti e gli angoli squadrati e tutto intorno l'erba della prateria sembrava di un verde più scuro e più intenso. Laura si voltò a guardare la loro meravigliosa casa. Nella luce della collina le pareti di legno liscio sembravano dorate come un mucchio di paglia. la voce era affoinesse. Io sono davvero realizzato dal posto di gasarno che i gli angoli italiani che i sottotitoli e che i east cultura della stessi sono avete liberi la broadcaste. Musica al